E' un quaderno. A che serve? Disegnare o scrivere le parole. Quello che non vuoi dimenticare. Aprimi la chiusa. E' un quaderno. Ti faranno a pezzi lì fuori. Devo trovare qualcuno che sta a leggere. Lo sapete leggere? Devo sapere cosa dice questo. Gli l'ha scritto. Era di mio padre. Dentro ci sono i suoi ricordi. Tu sei sicuro di voler sentire? Si. Io non voglio ucciderlo. Luca è diverso. Mi dici come ti chiami, per favore? Non lo so come mi chiamo. Mio padre mi chiamava figlio. Io non voglio ucciderlo. Io non voglio ucciderlo. Io non voglio ucciderlo.